Minori entrate da sovraccanoni, il consorzio BIM approva una variazione di bilancio previsionale 2022-2024 che in totale vale quasi mezzo milione di euro. Per il 2022 infatti entreranno quasi 166.000 euro in meno rispetto alle prime previsioni, mentre nei due anni successivi le minori entrate dovrebbero essere di 162.000 euro annui. Perché sono venuti a mancare questi soldi? I produttori di energia idroelettrica sono tenuti a corrispondere ai territori interessati dagli impianti canoni e sovraccanoni per l'utilizzo dell'acqua con cui producono l'energia rilasciandola più a valle. L'applicazione del deflusso minimo vitale, ovvero del parametro da rispettare per la salute degli habitat dei fiumi, prevede una maggiore quantità d'acqua nei corpi idrici e in una serie di casi questa ha comportato una minore possibilità di prelievo da parte dei produttori di energia rispetto alla soglia di concessione per cui si pagano i ristori. Quindi chi paga deve pagare meno e questo vale anche retroattivamente. Un'avvertenza tra Enel e Consorzio ha portato a un accordo mentre per il futuro occorrerà tenere conto delle minori entrate. Cosa succede ora? Le voci in entrate per sovraccanoni da circa 10 milioni e mezzo si riducono di oltre 160 mila euro l'anno e buona parte dell'ammanco viene assorbito dal ricorso a un fondo di accantonamento ad hoc per una cifra tra i 107 e i 109 mila euro l'anno. Altre voci come gli interessi passivi su cofinanziamenti a favore dei comuni si riducono complessivamente di 55 mila euro e anche il contributo alle materne paritarie da 176 mila euro l'anno viene decurtato ma solo per l'anno in corso di 15 mila euro.